64 a 77 per Sansevero al di là del 23-9 di parziale del quarto finale partita sostanzialmente dominata dalla formazione di coach Giorgio Salvemini con una scelta tattica, Giorgio ben definita da subito, avete difeso a zona, lo avete fatto molto bene, avete messo in difficoltà da subito Chieti L'ultimo quarto non mi è piaciuto perché prendere un parziale di 23-9 non è da grande squadra, noi dobbiamo essere bravi ad avere solidità sempre perché gli obiettivi che vogliamo provare a raggiungere sono nobili e quindi non si può permettere di avere dei momenti di rilassamento come abbiamo avuto anche all'inizio del secondo quarto quando abbiamo preso un parziale aperto di 10 a 2, 10 a 4 se non ricordo però queste sono cose sbagliate, però ovviamente la nostra zona è stata una zona molto adeguata che poi andava avanti con i principi della Uomo quindi non è che abbiamo alterato delle cose diverse, era uno schieramento iniziale che poi si adeguava e cavalcava le scelte difensive della Uomo i ragazzi sono stati molto bravi ad adattarla nella maniera giusta e a giocare sulle caratteristiche della scuola avversaria ma siamo stati bravi quindi abbiamo fatto una partita solida, dominata al rimbalzo, dominata a percentuali poi nel quarto quarto abbiamo sporcato la casella delle palle perse, quella è una cosa che mi dà fastidio però fondamentalmente abbiamo fatto una partita importante in un campo che oggi meritava una partita del genere quindi molto bravi e molti complimenti ai miei giocatori Ti chiedo una cosa, per chiudere Giorgio, quanto c'è di volontà da parte tua di fare bella figura qui a Chieti oggi? perché comunque avete dimostrato che quando spingevate sull'acceleratore in tutta la stagione non ce n'è per nessuno La mia voglia di giocare a casa mia era oggettivamente una cosa... Motivazioni dai Sì, ma non c'entra niente, è che io devo spingere i miei giocatori, non devo spingere me stesso non sono io che posso fare delle cose durante la partita, io le posso fare durante la settimana I miei giocatori oggi hanno capito che tipo di partita c'era, che tipo di partita si doveva fare, che tipo di sguardi avevano, che tipo di voglia avevano questa è un pochettino la fortuna che abbiamo noi come staff di giocare e di poter allenare delle persone vere, delle persone valide che in mezzo al campo danno tutto quello che devono dare e oggi l'abbiamo data come dimostrazione Contro, torno a ripetere, una squadra secondo me molto solida, molto dura, molto fisica che nell'ultimo quarto quando hanno cominciato a mettere il corpo su molte situazioni noi abbiamo fatto un passo indietro, è vero che il tabellone suonava, chiamava un punteggio diverso però secondo me Chieti è una squadra con corpo, con giocatori, con chili, con tecnica quindi una squadra che dirà la sua poi ovviamente sono di Chieti, torno a giocare a casa mia, mi sembra una domanda superflua come mi sento, è ovvio poi ci venivamo, come si chiama, descritti come la partita di Space Jam e questo sinceramente mi sembrava o corazzata noi siamo una squadra che fa quello che deve fare, che sa dove deve arrivare si mette il corpo per terra, mette il corpo addosso queste sono le cose importanti secondo me poi tutto quello che c'è attorno è bellissimo però guardo la sostanza e oggi sono molto contento di quello che abbiamo fatto veramente molto contento